bella a tutti ragazzi qui siamo in un nuovo video del canale e oggi vi farò vedere come con la ps4 come avete potuto vedere dai miei video poi con il telefono per editare uso queste cuffiette cioè per editare per editare in giro perché ovviamente non posso portare le mitiche turtle beach guardate il microfono è questo è antisoffio solo che adesso non è collegato ma andrebbe collegato aspettate qua all'incirca qui c'è la regolazione del volume del microfono e poi ovviamente caricatore per il mio telefono e il mio ipad ok e questo è il mio ipad i più attenti avranno notato che c'è stato uno sbalzo di qualità perché prima registravo con l'ipad e adesso sto registrando col telefono allora poi ho i giochi per ps4 nego marvel che è un gioco dove tu devi compiere delle azioni poi puoi andare giro gravare per la città appunto di lego poi abbiamo wolfstein che un po come call of beauty solo un po più complesso bisogna ragionare di più cioè no completamente diverso da call of beauty scusate praticamente tu devi compiere delle azioni ad esempio far cadere dall'aereo non so un carico oppure buttarti da un aereo all'altro eccetera è difficilissimo io non non riesco ad andare avanti poi gta come avete già visto in un video e poi minecraft dove l'avete visto mi sembra per 7 8 video non so intanto 20 euro bene bene questi sono i miei giochi bella a tutti ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto è stato un video semplice ma carino scrivete scrivete scrivetemi nei commenti se volete video particolari o ne volete un altro perché non avete capito delle cose a parte che non c'era tanto da capire oppure perché non so più avanti ne volete un altro del genere volete altri tipi di video scrivetemelo qua sotto spolliciate e io direi che per questo video è tutto ciao ciao